Bentornati o miei scomunicati nel sacro ordine di SEBG Games per un nuovo video che in realtà è la definizione, il delineare del contest delle summon che andremo a svolgere in questi giorni. Ci hanno regalato le 50 summon ragazzi, le 50 scroll, sono arrivate, sono ufficialmente sull'official dalle 16 se non mi sbaglio, io arrivo un po' in ritardo ragazzi ma oggi mi sono perso a lavorare sul canale Twitch, quindi non indugiamo oltre. Eccoci qua, allora come facciamo per questo contest? Come si partecipa? Dove si mandano i video e come fare? Allora dovrete fare una clip signori, dovrete registrare la raccolta delle 50 scroll, raccogliete e poi andate a fare le 50 summon, niente più niente meno, fate solo le 50 chiaramente summon, ora io ne ho 64 quindi me ne dovranno rimanere 14. Le facciamo, visto che ci siamo, le apriamo un po', tanto, ma al solito la roba la ti posso tirare fuori sì ma agli account degli altri io non trovo nulla, sempre la solita solfa, garantita, posto, laica, questa è la terza, niente, sempre così oh rega, sempre così, è una roba assurda. Ah, almeno 2 su 50, non male. Solice, solice. Bon, ci fermiamo qui con le summon, chiudete il video. Questa clip me la mandate sulla pagina Facebook CBG Games, trovate l'account in descrizione. Se non avete Facebook me la mandate su Instagram, ma rega mandatemela su Facebook se potete, mandate un messaggio su Facebook con la clip, perché sennò io non ci capisco più nulla. Mi prenderò un po' di tempo per analizzarle tutte, diciamo che abbiamo 3 giorni, da oggi 16, domenica sera in live faremo il contest e vedremo chi sarà il vincitore. Domenica 19, link in descrizione per la live di Twitch e poi arriverà la differita, però non so quando, perché devo vedere se ce la faccio, quando e come fare a farla. Arriverà la differita anche su YouTube. Io vi ringrazio per essere stati con me per questo video. Fra poco arriverà, lo devo ancora girare, la patch 1.37, per l'appunto, arrivata sul test server oggi, con delle novità, poca roba ragazzi, un po' scarna, però c'è anche questa nuova patch, sarà un nuovo viaggio di meraviglia, alcune cose. Da dire quindi, le vedremo, spero di riuscire a portarvela entro le 9. E poi stasera ragazzi, vi ricordo che c'è gufo tossico su Twitch, mi fa morire Sonic, su Twitch online, vi lascio il link in descrizione, andate a mettergli il follow. Stasera lui deve stream a Dark Souls, se vi va, passateci. Io vi ringrazio e possiamo concludere qua, noi ci vediamo prossimamente per gli aggiornamenti sulle patch.